Eccoci qui come state, un saluto a tutti e ben ritrovati, una buona domenica, mi raccomando commentate numerosi e iscrivetevi e dai ragazzi che arriviamo a 20.000 iscritti, nel prossimo video su Milano Erlo assegniamo questa maglia, è l'ultimissima occasione quindi per provare a vincerla, maglia autografata dalla Faleao, scaricando l'app di numero 10 e seguendo su Instagram MBMagli e portate anche qualche iscritto al nostro canale YouTube, quindi affrettatevi, più tardi assegneremo la maglia e in bocca al lupo a tutti. Allora, un'altra assenza nel Milan, che può sembrare secondaria ma non lo è, è quella di Bartesaghi, non è stato convocato, non è arrivato nel ritiro del Milan nel solito hotel milanese, quindi assente Bartesaghi significa che il Milan sulla sinistra ha soltanto Florenzi e di fatto quindi ha una situazione di emergenza visto che c'è fuori anche Teo Hernandez. Non solo, è stato convocato Bartoccioni che è a questo punto il terzo portiere, oggi il terzo portiere è oggi, perché gioca il terzo che come sapete è ammirante, poi il secondo oggi sarà Nava e il terzo appunto questo giovane portiere. Ma è stato convocato Gimenez, conferma dunque rispetto alla nostra anticipazione di ieri, che è il diciottenne proprietario del Madrid, che il Milan vorrebbe confermare che in primavera sta facendo vedere delle grandi qualità su cui si può lavorare. Per questo ragionare insieme a voce alta, l'alternativa di Florenzi a quel punto potrebbe diventare o Calullo o Calabria, se magari succede qualcosa Calabria vada con la parte e Calullo entra sulla destra, oppure magari si lancia Gimenez. Vediamo a che punto è anche Calullo che rientra, ufficiale della sua convocazione, così come Krunic. Non giocheranno, però giocherà Adli e là davanti i soliti noti Pulisic, Leao e Giroud al centrocampo Reinders, con Adli appunto e Musa, fuori anche Loftus-Cic. Assenza di Bartesaghi ripeto che comunque toglie l'unica alternativa di ruolo sulla fascia sinistra Florenzi, che già da quella parte è adattato. Che ne pensate? Voglio capire poi meglio chi è Cosase, perché magari si tratta anche di un altro infortunio, probabilmente sì, oppure in disposizione, questo lo vedremo tra poco. Commentate numerosi, iscrivetevi, lasciate un like e provate a vincere la maglia di Leao. Mi raccomando, iscrivetevi numerosissimi, arriviamo presto a 20.000. Un abbraccio!